ciao ragazzi bentornati questa puntata per le applicazioni migliori spiagge a vacanze visto il periodo andiamo tutti verso tutti o quasi e poi verso una piccola vacanza anche di pochi giorni non importa anche di un giorno solo l'importante è andarsi sempre a rilassare appena possibile quindi applicazioni utili per trovare la spiaggia gli sfondi da spiaggia insomma tutto quello che riguarda un po casa mare vacanze montagne eccetera eccetera sfondi da spiaggia partiamo subito con questi wall paper che sono veramente interessanti in 4k avete questa applicazione permette di applicare come tante altre applicazioni degli sfondi in 4k ma solo riguardanti le spiagge tipo queste che ce le sogniamo come al solito molto bella qua c'è tutta una lista poi di ulteriori vedete la signorina nella spiaggia caraibica che è un po un classico possiamo fermare ovviamente l'immagine rating quindi la possibilità di dare un rate alla pollice in su pollice in giù oppure love quindi amare questo oppure fare set quindi settare lo sfondo direttamente sul nostro smartphone chiaramente più risoluzione al vostro smartphone più è di ultima generazione meglio verrà poi risoluto il lo sfondo chiaramente sono in 4k ma vanno bene anche per i full hd per gli schermi hd ovviamente sono in alta risoluzione guardate qua ancora che bellezza è una classica applicazione che però ci fa sentire in vacanza poi se qualcuno proprio non riesce ad andare neanche un giorno al meno con gli sfondi si potrà consolare ad avere qualcosa almeno di vacanziero sul suo smartphone per poter vedersi almeno al mare giustamente no però io credo che tutti dai una giornatina ce la faremo sicuramente guardate qua che bellezza anche queste queste sfondi sono veramente in altissima definizione ce n'è di tutti i tipi per categorie eccetera eccetera io qua vi riassumo un bel aperitivo da spiaggia col tasto set settiamo con questo tasto scorriamo gli altri sfondi avanti e indietro con le due frecce direzionali ce n'è veramente per tutti i tipi tutti i gusti questa applicazione sfondi spiaggia 4k la troverete poi nel link in descrizione del video dove metto sempre la classificazione delle applicazioni seconda applicazione zonzo fox un'applicazione con un rating molto alto sempre tra le 4 stelle e mezzo abbondanti ci permette praticamente di illustrare tutte le città più conosciute praticamente andare in giro a zonzo per una città la guida turistica le attrazioni da visitare i mezzi pubblici che noi possiamo utilizzare per andare in giro quindi veramente un'applicazione ben fatta e completa io partirei da venezia voglio andare a venezia ecco che zonzo fox mi dà la guida della città immediatamente voglio cosa vedere in un momento solo siamo già basilica di san marco qua veramente a venezia da vedere ce n'è di tutti i tipi andiamo al palazzo ducale per dire se noi clicchiamo il palazzo ducale un momento molto veloce ci dà tutta la storia ovviamente possiamo leggere tutto quello che è minuziosamente la storia del palazzo ducale la storia storica e poi insomma aprire sia il sito web è anche i prezzi ovviamente di quello che poi vogliamo andare a visitare poi c'è anche il museo archeologico nazionale nelle vicinanze possiamo quindi andare nei colorati e vedere assolutamente anche questa questa tipologia di monumenti quindi c'è veramente di tutto di più la guida è ben fatta si passa da una città all'altra per esempio shopping per farvi vedere una vedete libreria al milion adesso è una delle tante librerie che provate ci sono vicino a venezia o a venezia stessa vedete castello 57 63 poi il nome dello shopping eccetera eccetera e da qui poi insomma tutte le descrizioni varie dei negozi delle librerie delle guidature il meteo anche pensate avete anche il messo attuale della del momento se lo carica sempre un pochino più lento mente che forse qua deve andare a leggere i dati a non vedere le offerte speciali che sono un po niente se si è impallato sul meteo e non ne vuole sapere meteo si meteo no la guida turistica è ben fatta e potete trovare comunque tutte le informazioni per le città in cui voi poi desiderate andare ovviamente adesso your beach your beach è la tua spiaggia ovviamente come da traduzioni english quindi praticamente sono tutte le spiagge italiane di tutte le località costi prenotazioni della spiaggia scoprire di più cosa sta qua è veramente bella perché vi permetto io vado in liguria sono andato in liguria scegliete data giorni vi ho messo liguria cerca viene fuori poi potete anche qua filtrare accesso animale animazione ragia che ce n'è veramente di tutto e di più so bagni souvenir scopriamo di più andiamo a un bagno con bar e ristorazione ovviamente le immagini della balneari della spiaggia con tutti i suoi servizi tutte le fotografie ovviamente anche della ristorazione interna non è male scusate qui arrivano sempre dei messaggi e quanto non devono arrivare e ci sono comunque tutte le fotografie ovviamente di quello che è il discorso per fotografie intendiamo tipo queste poi le possiamo scorrere chiudere aprire sono abbastanza veloci fanno vedere tutto lo stabilimento e tutte le insomma la descrizione della spiaggia wifi gratuito biblioteca interna tutti i servizi quelli scuriti sono quelli presenti tipo videogioco wifi cabina animazione area giochi e la prenotazione è possibile prenotare fino alla mezzanotte del giorno precedente più andiamo avanti con la stagione ovviamente più sarà difficile trovare posto quindi poi voi dovrete cercare nei vari periodi di essere veloci di risparmiare e di prenotare per tempo potete inviare la richiesta poi vi verranno date informazioni sul prezzo e su tutto insomma una guida abbastanza completa ci sono veramente tutte le spiagge di tutte le località balneari adesso qua parlo della ligura però possiamo tranquillamente cercare anche anche benissimo altre regioni che possono essere emilia romagna guardate non ho nessun problema tac cerchiamo e verrà fuori no non ha tratto niente perché non siamo sulla ricerca per regione perché siamo sulla ricerca per stabilimento balneare ma non è quello qua vedete qua c'è la ricerca per regione andiamo in sardegna e troveremo anche le spiagge della sedia vedete bagno sardegna vice le piscinette di fox che sono veramente meravigliose troviamo veramente descrizione tutti i servizi la possibilità di prenotazione le informazioni insomma un'applicazione ben fatta per le nostre spiagge poi c'è viaggia in rete che un'altra applicazione molto semplice cosa fa è un'applicazione che è il portale dei viaggi per le case vacanza tutti i proprietari mettono qui le offerte bed and breakfast case con l'affitto e tutto quanto potete contattare prenotare tutto quanto direttamente dall'applicazione vedete case vacanze per dire andiamo dentro anche qua sicilia puglia sardegna insomma andiamo a cercare ancora in liguria 236 case vedete qua ci sono appartamenti da 100 metri dal mare prezzo a persona 450 600 ora settimana cervo liguria poi a pieve di teco liguria anche qua un holiday chic apartment quindi anche qua parliamo di appartamenti insomma ce n'è veramente tanti vedete tutti gli appartamenti quando clicchiamo dentro ovviamente apriamo le immagini apriamo tutto quello che è telefono subito la via la descrizione viene fuori tutto veramente guardate addirittura vi dice anche avete il free wifi in fibra 50 mega ormai sono straorganizzati tutti i nomi e cognomi invia la richiesta poi viene viene data una risposta sul prezzo sulle vostre informazioni potete zoomare in auto anche tutte le foto delle varie case quindi un portale veramente completo per ogni regione abbiamo la possibilità per dire voglio andare in calabria che calabria è stupenda veramente sono stato a un mare che ve lo consiglio guardate questo appartamento a galderate che non so da rosano ok veramente bello veramente bello in questa stagione costa un po meno vedete poi che ci sono i prezzi da 375 550 settimana la descrizione di tutto quanto e le fotografie poi la possibilità di prenotare insomma tutto quello che è il l'appartamento poi magari trovate più informazioni direttamente nelle descrizioni più specifiche quando voi poi vi settate meglio l'applicazione l'ultima applicazione è proprio bb sardegna cioè questa dedicata la sede a tutti bed and breakfast spettacolare di una regione spettacolare come la sardegna che è bellissima con un mare veramente paragonabile alle isole straniere più belle sardegna nord ovest andiamo a vedere per dire ci sono sassere dintorno e andiamo vedete qua ci sono veramente dei bed and breakfast da sogno questo è un prima categoria guardate stella del golfo guardate quello che c'è tutta la descrizione del bnb chiamare mappare preferiti mandare la mail guardare il sito veramente l'applicazione il tempo e insomma ci sono veramente tantissime opzionalità e la possibilità poi di vedere più fotografie vedete dell'ambiente che non mi pare assolutamente male qua parliamo di un prima categoria voluto subito esagerare con qualcosa poi c'è insomma ce n'è per la portata di tutti questi sono tutti prima categoria si passa di categoria in categoria comunque c'è un seconda categoria da lucia vedete anche qua magari c'è qualche immagine meno però potete contattare comunque e farvi mandare poi tutto oppure contattare il sito direttamente da qui e andate su google che non trova il sito benissimo ma non c'è probabilmente ma dove ci sono i siti poi potete contattare direttamente il venditore allora vediamo un pochino castel sardo che è una zona abbastanza conosciuta anche qua sono anche qua di prima categoria vedete qua tutte le immagini insomma del bnb sono veramente belli c'è poco da dire poi va a gusti questo è immerso nel verde è veramente particolare molto bello da qui poi la possibilità di contattare prenotare sapere tutto era l'ultima applicazione delle migliori applicazioni spiaggia vacanze come sempre ne devo premiare una beh io stavolta sono più per le cose pratiche premio sempre applicazioni che parlano di prenotazioni di case perché sono le più utili stavolta voglio premare sfondi wallpaper perché questa questa applicazione di questi sfondi è veramente interessante sempre che voglia ripartire perché ci dà la possibilità di avere i nostri sfondi in 4k bellissimi come sempre che si riapra eccola qua veramente belli completi soprattutto un pezzettino di mare in casa nostra vedete ne è arrivato subito uno dopo due minuti mi sono piaciuti molto la possibilità di settarli direttamente sono fatti veramente bene soprattutto strizzano l'occhio agli schermi quad hd di ultima generazione ma non meno anche quelli hd o full hd quindi schermi per le vacanze beh scaricatevi sfondi wallpaper 4k per le spiagge questo qua che secondo me è veramente un'applicazione molto interessante voglio premiare un'applicazione una volta ogni tanto anche per gli sfondi per 4kitech è tutto da paolo guala ciao e grazie come sempre delle iscrizioni grazie come sempre dei like continuate così perché in giornata non altri video che sono molto molto interessanti molto molto scintillanti ciao ciao